Wow! PS Automobile, il marchio premium del gruppo PSA, è presente al salone di Francoforte con grandi novità in anteprima mondiale. Presenta infatti oggi nuova PS4, declinata in due versioni diverse ma complementari tra di loro, quindi un unico modello ma in due silhouette differenti. Una berlina per quei clienti che cercano raffinatezza e sensazioni di guida inedite e la versione invece crossover elegante che si chiama DS4 Crossback dall'assetto rialzato e infatti è più alta di 30 mm rispetto alla versione berlina per quei clienti che cercano invece un'esperienza di guida sia in città che anche sul terreno extraurbano. Nuova DS4 è una berlina molto elegante che vuol competire con il cuore del segmento delle berline compatte, una berlina dinamica con una griglia di calandra DS, nuovi fari con 84 LED che danno un miglioramento di efficienza di oltre il 51%. Naturalmente nuova DS4 viene equipaggiata anche dalle finiture e dalle confezioni molto eccezionali con lavorazione a braccioletto d'orologio e la pelle eccezionale semi-anilina che troviamo soltanto sulle macchine di lusso. Infine i motori, tutti Euro 6, in particolare c'è il motor International Motor of the Year, scelto come miglior motore di tutta l'industria mondiale, un 130 CV sulla berlina e sulla crossback. Oltre a nuova DS4, DS Automobile presenta al Salone di Francoforte la vettura 100% elettrica che parteciperà alla prossima stagione della Formula E e realizzata in partnership tra DS Automobile e Virgin Racing. Questa nuova vettura ha tutto il gruppo motopropulsore sviluppato interamente dagli ingegneri di DS Performance, quindi è sicuramente una vetrina e un laboratorio tecnologico per il nuovo brand e tutta un'esperienza che un domani potrà essere anche utilizzata nelle vetture di serie. Infine l'ultima grande novità è una Showcar che è stata sviluppata sulla base della DS4 Crossback che si chiama infatti DS4 Crossback Concept. Rappresenta il futuro di DS per diversi elementi, prima di tutto per l'utilizzo di materiali inediti nel settore dell'automotive come la pietra. Il sistema con cui è stata progettata questa vettura è assolutamente innovativo e consente, grazie all'utilizzo magari della stampa tridimensionale, di ipotizzare una grande varietà di personalizzazione della vettura che è uno degli elementi caratteristici delle DS. Grazie a tutti!